Eccoci qua amici dell'All Fashion, stasera le sorprese non si fermano mai, io ho qua il piacere di avere accanto a me Antonio Vandoni, direttore di Radio Italia e solo musica italiana. Non siamo soli, abbiamo i fans, poi si presenteranno anche insomma perché tanti amici stasera e tante sorprese all'All Fashion. Ecco io sono di Radio Rollers con i miei colleghi Lorenzo Casoratti, titolare della radio, Marcello Mertoni, ecco sono onoratissima comunque di averti incontrato stasera e ti ringrazio di questa breve ma intensa intervista. Quindi che dire io ti passo il microfono per insomma presentarti perché non hai bisogno per raccontarci adesso insomma le nuove novità di Radio Italia, questa grandissima radio. Sì no, io sono felice di ospitare, di avere come amici delle amici della radio perché la radio è un mezzo magico e io dico sempre che è una bella malattia, una volta che si fa radio rimane nel sangue, circola per una vita. Per cui sono felice di essere qui con voi e niente Radio Italia la conoscete per cui ha un pubblico ben preciso di solo musica italiana da 35 anni per cui siamo felici di questo insomma cerchiamo di portare avanti questo discorso. Grande Tony! Io sono nato a Fanz e non sono la sola vedo giustamente tra l'altro Radio Italia è un mito, chi è che non la conosce? Ecco io però spero che tu ci farai l'onore anche di venirci a trovare a noi di Radio Roller insomma che siamo una realtà che sta crescendo adesso. Io ne approfitto per farti questo invito insomma se vorrei venirci a trovare raccontarci un po' di te. Ma volentieri davvero accetto l'invito e ti ringrazio di avermelo fatto perché per me ripeto la radio è una passione per cui tutta la vita. Stasera era la festa del mio compleanno per questo ci sono un sacco di amici, abbiamo radunato 60 artisti, 250 ospiti della radio per cui puoi capire che fai il mio lavoro, che bello è il nostro lavoro insomma quando hai degli amici così. Io ti capisco anche perché io sono nuova di questo settore, sto partendo adesso, non sono anche all'inizio quindi già la radio mi ha coinvolto perché è veramente una cosa bellissima e spero insomma di proseguire in questo percorso e sono contenta di averti incontrato stasera, di aver avuto l'opportunità di conoscerti, spero che non sarà l'ultima occasione. Io ti rinnovo l'invito a Radio Rollers. Non sarà l'ultima occasione, ci rivedremo e sarò felice di esserci davvero. Io ti faccio i miei auguri, gli anni non si possono dire? Tutta la vita sì, ho 55 anni per cui 30 anni di musica per cui ne vado fiero. Complimenti perché non te li davo, bellissimo uomo in forma, quindi come stiamo tutti noi della radio, quindi a questo punto un saluto qua dall'All Fashion, noi di Radio Rollers. E un boccalupo per la Radio Rollers, di cuore. Un saluto anche a Radio Italia, sono musica italiana. Grazie, di cuore a voi e un boccalupo, ciao. Ciao.